lotta libera di lettanti 3.000 dollari per tre minuti sul ring gradite personalità pittoresche possibilità di costumbre ci vuole più colore costumbre ci vuole più colore Ma che cosa sta succedendo là dentro? Faccio ginnastica, non sono vestito, scusami Beh, certo che ti comporti in modo strano, Peter Ok, grazie La Oscorp potrebbe perdere il contratto a beneficio della Quest Sarà la fine di Norman Osborn La Oscorp potrebbe perdere il contratto a beneficio della Quest